il convegno non so neanche parlare va bene siamo pronte no in realtà no posso fare aria con questo effettivamente visto che mi mancherà sei pronta no più o meno non sono mai pronti mi piace male a me tutto estetico ma cosa ti fa insomma a una tv guarda tutto gucci ovviamente oh mio dio mi viene malissimo no sto mangiando io già posso fare oddio cos'è la cosa è una diva è difficile mi serve aria ma ma doveva una tachicardia io non so cosa dire Ehh Marvin Wiskaw Non lo so 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 Così? Non lo so Non lo so Delirogato Delirogato Ehh Bella la testa Qui ci vuole il ring Scusamiiii Nooo Nonono Hai visto che cos'era? Io non lo sto vedendo Era un inquadraturato Tutto bene No Ho preso un momento di Si sta appoggiando la kibu Si Con la kibu Esatto La shippa Chi è che non shippi qua dentro? Spiegami Beh Chi è che carota stupendo Si Si E che guarda le pulpi Si Eh no Ho visto l'acqua Non va bene Nooo Non va bene Da Dix Bix Esatto Te viene d'acqua Oddio È la roba delle foto E' il telo Oddio Dio Bello Ma fuca Qua Sono venuti questa volta Dio Ah, questa è bellissima Cos'è questa figata? La fatura bellissima Ah come da poco a peggio Sì, sta bellissima Boh Boh, esatto Nooo, guarda l'occhio bianco, l'occhio bianco Ma ki-bongo può stare un po' cavo ovunque? Nooo, sembra la che ti lancia le occhiate quelle di te Oh no, guarda Guarda che bello questo sorrino Vabbè, non ho capito C'è cosa, è finito Oddio che bella questa insuola Nooo Allora Devo prendere un momento un attimo Mi sembra un momento Un attimo Sì Non so cosa dire No, neanche io Questo succede quando hai l'attività gruppa che non so Spacca Che non so neanche cosa dire Che Beh, anche ki-bongo è nel stesso Non è tra i nostri No, ok, a tutti Vabbè, tutti sicuramente Però Anche io Per il di carota Sì esatto Per il di carota Amici Temine 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 Solito Temine Temine Io glielo ho convinto No, neanche io Questo di aver perso 87 anni di vita che non ho Questo di aver perso la voce riguardo Amino Non parlo Questo puoi dire, non c'è niente da dire E Cioè, l'ultimo di Dio è sceso in terra Esatto Non lo so Però mi è piaciuta la scena del Del pozzo perché mi è venuto in mente il Gion Sì Cioè, i cinque alberi È vero Eh, ma secondo me c'erano qualche richiamo Certo sicuramente Cioè, magari non c'erano solo quello C'erano qualcos'altro Ma era un po' Poi secondo me io andrei a vedere anche Il lyrics O lyrics Eh, per il testo sì Della canzone Che magari c'è qualche riferimento nascosto Però Anche l'acqua Affogare nell'acqua È stato secondo me significativo Dici? Sì Che si è collegato Un po' Affogare nell'acqua Ma anche proprio la Jong Yan O comunque la sua morte Cioè Affogare Madonna Però Però Non lo so cosa dire Però sono stati bravi Sono bravissimi Bellissimi Mi erano mancati tantissimo Anche a me tantissimo Io non lo so cosa dire Allora Ehm Come avete visto siamo un po' Senza parole Sì No, non Non sappiamo Già Allora dovete capire Penso che il video spieghi tutto Esatto Che Per entrambe è l'ultimate in gruppo Quindi non c'era molto da dire Cioè Mino Se non si era capito Tutti Non lo so Speechless Ecco Però se avete qualcosa Voi da dire Diteci Nei commenti Esatto Quanto belli Bravi Tutto 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 E niente Lasciate un like se questo video vi è piaciuto Non so più cosa dire Ho perso le parole Devo andare a riprendermi un attimo A buttarmi a cui faccia Per capire se è vero o no Ok Esatto E ci vediamo In questo video Ciao